Continua l'azione di controllo prevista dal piano della prefettura di Caltanissetta sul Green Pass. Le forze dell'ordine nella settimana dal 3 al 10 gennaio hanno svolto 486 controlli tra attività commerciali ed esercizi pubblici. Controllate 3.089 persone e sanzionate 2 perché erano senza Green Pass regolare ed altre 6 per irregolare tenuta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovvero le mascherine, obbligatorie in questo momento all'aperto oltre calchiuso in tutta Italia per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid. L'attività di controllo delle forze di polizia con il concorso delle polizie locali dei comuni della provincia nissena aderiscono al piano dei controlli elaborato dalla prefettura di Caltanissetta che ha l'obiettivo di agire per il contenimento e la prevenzione del contagio. Il piano proseguirà nel prossimo periodo. Nelle aree cittadine individuate dal piano prefettizio dove sono presenti attività comunali ed esercizi pubblici dove è previsto l'obbligo del Green Pass è stato attivato un rafforzamento dell'azione di controllo e di vigilanza.